Voglio essere libera e viaggiare. Ok, ma per andare dove? A nord, a sud. Qui è come se la vita sia seria. Non credo che saresti più felice di adesso. Ciao. Ciao. Vuoi del tè? Preferisci stare con mia sorella? Certo, sei una dura. Tu vuoi stare da sola. Non sono io che voglio stare da sola. Sono le donne che non mi vogliono. A parte te, tutti i maschi mi vogliono. Ti va ancora di giocare a Go? Sono venuta per questo. Sentir parlare tua sorella mi deprime. Questo è il Goban. E questi i sassi. Li mettiamo quando è il nostro turno. Ma una volta messi non si toccano più. Lo scopo del gioco è di formare dei territori limitati da frontiere fatte con le pietre. Non imparerò tutto in una volta. Ah no? Allora dovremo rivederci. Più volte? Eh sì, con regolarità. Per giocare a Go? I primi due anni avrai difficoltà, ma poi piano piano. Ma... Non mi annoierò? Ah no? No, no, è molto divertente. Tua sorella non credeva che tu mi avessi invitata. Era sorpresa. Vieni alla festa di domani sera. Non so se sono libera. Vediamo. Vieni alla battaglia! Vieni alla battaglia! Vieni alla battaglia! Vieni alla battaglia! Grazie a tutti